Allora sono qua in solido, ho disegnato così in modo molto veloce questo pezzo qua, adesso con la barra spaziatrice, vediamo se parte perché ero sull'altro schermo, con la barra spaziatrice mi si crea il comando questo orientamento, dopo io poi scelgo le varie viste da qui, posso anche scegliere, se poi io metto questo fissa sul dialogo, questo mi rimane qui, vediamo un attimo, schiaccio qua, io questo lo posso fare tutte le viste e questo qua lo tengo qui, posso anche fare così. Vabbè, qua vabbè posso scegliere isometrica, dimetrica come voglio, lasciamo isometrica e vabbè, naturalmente io posso andare poi a usare il normale A, che naturalmente si vede, se io continuo a schiacciare il normale A mi passa tra la frontale, l'alteriore e la posteriore, ok? Perché ho scelto quel piano lì, però io potrei anche, andando qui, una volta che tengo in highlight questa faccia, ok? Col control vado a tenere anche questa, a questo punto se questa volta però primo normale A, ok? Succede questo, che è sì normale, ok? A questa faccia, però viene anche perpendicolare a quest'altra e dunque l'orientamento con diciamo con l'Y, non con l'orientamento quello dell'iniziale di questo piano ma tenendo presente come diciamo, come Y perpendicolare, se si può dire così, perpendicolare a questo piano, dunque è interessante, dunque mi sposto, schiaccio di nuovo il control per eliminare, però ottengo questo, perché naturalmente se facessi così normale A, a questo punto viene qua normale, dunque, normale. Dunque faccio questo, se vado sul piano naturalmente mi fa questo, e questo qua, posteriore e anteriore, se voglio, ripeto, andare col control primo qui e vado così, a questo punto mi posiziona questo orizzontale. Però io posso anche spostarmi col pulsante centrale, col control, col tasto sinistro, tiro via quella superficie, questa volta per esempio metto questo, vediamo cosa succede e faccio normale A. A questo punto si posiziona così, riproviamo sull'altro, andiamo su questo e facciamo normale A, a questo punto va così, col control, posiziono qua e faccio normale A, dunque rimane normale, però diciamo il nostro X diventa per esempio questa linea qua, ecco, quel piano che abbiamo selezionato come secondo, sono curioso di vedere invece se seleziono così cosa succede, vediamo, non succede niente, vabbè, non può farlo, perché un piano, una faccia planare, cilindrica o cronica, normale A, però naturalmente, perché avevo già selezionato questo secondo, andiamo a cancellare questo, andiamo a selezionare questo, mettiamo il piano che ci fa normale A, ok. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.